quella che vedete sulla mia faccia è la traccia del fiume oreto a palermo avreste mai pensato di poter indossare un fiume sentirlo addosso ecco questo in un certo senso è quello che avverrà durante il progetto un dati nos perché i dati sulla salute sono sulla stato di salute di inquinamento o speriamo non l'inquinamento del fiume saranno resi protagonisti di un'esperienza noi la chiamiamo meditativa no perché sarà un'esperienza in cui i dati verranno trasformati in suoni luci tanto da permetterci di raggiungere uno stato meditativo no e quindi ci sarà un posto nei pressi della foce del fiume oreto in cui si potrà andare e mettersi lì e avere questa esperienza meditativa da soli o se il cobit per esempio ce lo permetterà anche insieme e questi dati sullo stato di salute del fiume trasformandosi quindi in suoni e luci no e riverberi ci porteranno in uno stato di meditazione in cui potremo riflettere in questo nuovo rituale che usa i dati prima di tutto se ci sta bene no questo stato del nostro ambiente e poi potremo pensare che fare come possiamo agire per evitare che la situazione possa cambiare in peggio ecco in questo senso u dati nos ci rende veramente più sensibili all'acqua del fiume oreto